Ricevere dal Signore l'amore di un padre, ricevere dal Signore l'identità di un popolo e poi trasformarla in una etica e rifiutare quel dono di amore. E questa gente ipocrita sono persone buone, fanno tutto che si deve fare, sembrano buoni. Sono eticisti, ma eticisti senza bontà, perché hanno perso il senso di appartenenza a un popolo. La salvezza il Signore la dà dentro un popolo, nella pertenenza a un popolo. E così si capisce come il profeta Isaia ci parla oggi del digiuno della penitenza. Qual è il digiuno che vuole il Signore? Ma è il digiuno che ha un rapporto col popolo, col popolo al quale noi appartiamo, apparteniamo, il nostro popolo, nel quale noi siamo chiamati, nel quale noi siamo inseriti. E questo è il digiuno che voglio, sciogliere le catene inique, togliere i legami del gioco, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni gioco. Dividere il pane con l'affamato, introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti. Qual è il digiuno che vuole il Signore? Digiuno che ha, che si preoccupa della vita del fratello, che non si vergogna, lo dice Isaia stesso, che non si vergogna della carne del fratello. La nostra perfezione, la nostra santità va avanti con il nostro popolo, nel quale noi siamo eletti e inseriti. Il nostro atto di santità più grande è proprio nella carne del fratello e nella carne di Gesù Cristo. L'atto di santità, Dioci, noi qui nell'altare, non è un digiuno ipocrita. E non vergognarci della carne di Cristo che viene oggi qui. E' il mistero del corpo e il sangue di Cristo. E andare a dividere il pane con l'affamato, a curare gli ammalati, gli anziani, quelli che non possono. Darci niente in contraccambio. Quello è non vergognarsi della carne.